Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere l'albergo in cui sono a Roma. Guardate la cucina, guardatela, con il forno tutto, pure il mangiare ovviamente, per la questione. Adesso vi farò vedere, beh, cosa se non il salone. Guardate il salone, quanto è bello, wow, troppo bello il salone, con la tv, ragazzi, guardate la camera, quanto è bella con l'armadio, la tv ovviamente, termo, no, penso c'è il, no, si termosifone. E il letto, ovviamente, con la Nintendo Switch.